È un momento importante per i comuni del territorio perché i ragazzi possono fare un'esercitazione vera di protezione civile e iniziano ad imparare le prime nozioni di protezione civile che poi servono a loro nella vita di tutti i giorni. Quindi far capire la cultura della prevenzione e dell'emergenza credo sia un fatto importante che vede oggi coinvolte una serie di scolaresche e l'entusiasmo con cui i bambini e i ragazzi hanno appreso le nozioni credo sia a testimoniare che sono iniziative importanti che vanno ripetute perché effettivamente possono dare un contributo importante nella formazione dei cittadini.